Prima di farvi vedere come andò da mangiare i tiger oscar devo far bere le mie testù dorsi di che si sono appena sbagliate dall'etargo e lo farò riempendo questo contenitore d'acqua per acqua alta 2-3 centimetri più o meno fino a ricoprire le zampe e poi le metterò dentro per 4-5 minuti per farle bere. Grazie a tutti. Ok penso che abbiano finito ora le prendiamo e le rimettiamo nel terrario dove spero che mangeranno un po'. comunque da quando si sono risvegliate già hanno mangiato un paio di volte quindi si può stare tranquilli. questa come vedete sta un po' mangiando. ok comunque non è un problema se non mangiano. appena risvegliate dall'etargo l'importante è che si idratino quindi di farle bere almeno non è un po' mangiare. tutto quello che può fare. ok no 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 Grazie a tutti. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. I don't know. 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 I don't know.